Ben ragazzi il mio marraffe oggi siamo qui su heyday Chi se lo ricorda questo gioco? Mio dio che bei ricordi Non ci gioco da tantissimo, sono rimasto a livello 38 Ma devo dire che a voi piaceva veramente tantissimo E infatti ho deciso di farlo perché me l'avete chiesto Dopo tipo un anno Il nostro camioncino preferito che ci portava il cibo, i gelati, i ghiaccioli e il pane E il nostro caro, come l'avevano chiamato questo qua? Che ballava sempre, ricordo che faceva sempre stretching, esatto Vai così Ci ho giocato giusto ieri per, non lo so, mi andava così E hanno aggiunto questa cosa qua Un sentierino che porta fino a questa casetta che è la casetta dei vicini Ed è bellissima sta cosa Nonostante nessuno ci giochi, solamente io Continuano ad aggiornarlo, questo mi fa molto piacere E guardate cosa ho trovato nel pacco davanti a casa mia Noo che bello Statua del panda, è bellissima Dove cavolo sono? Dov'è la mia decorazione? Non mi ricordo dov'è, dov'è? Dov'è la mia statuetta? Eccola, statua degli animali Guardate quanto è bella, è tutta d'oro Ma non è che posso venderla, che mi faccio i soldoni Guardate quanto è bella, c'è il pollo La, 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 la cosa, la pecora Il maiale e anche il cavallo O l'asino, non so cosa sia Cosa stai facendo tu? Questo non c'era Da dove sei uscito tu? Che occhi ha? Regà è inquietante sto vecchio eh No no, lo so che mi vuoi rubare la roba Cos'è che sta facendo? Non ho capito Va bene però E questa? Vabbè ormai li conosciamo tutti I bug di questo gioco Esatto, come la vecchia che trema tra l'altro Perché trema? E passa tutto, vabbè Vabbè Ciao biciclettina Ciao anche a voi mucche Sono ritornato Da quant'è che non mangiate? E voi da quant'è che aspettate qua? Trent'anni? Cos'è che vuoi? Una torta? Toh Ce l'avevo già pronta Toh Oh, balla, balla pure E non ho capito cosa devo fare qua Eeeh Non lo so Sto facendo totalmente a caso Ernest Rose Madonna che nomi che avete Ma basta Ho già toccato la casa Non ho capito cosa devo fare E non scassare E questi gattini Guardate quanto sono Sono stanchi Non mangeranno da tre anni Ho un po' di latte Diamo il cibo ai maiali Alle nostre belle caprette Bene, non abbiamo il cibo Stai pensando al grano? Mi fa piacere Mi fa piacere anche che Passi attraverso i miei polli Toh Dei polli Datemi il vostro latte Devo sfamare i miei gatti Non è cambiato molto Però questa statua è bellissima Dio santo quanto è bella Comunque ragazzi Per questo episodio è tutto Se sapete quello che è uscito Volete darmi consigli Iscrivetemelo pure Qui so Io leggerò tutti i commenti Comunque ragazzi Per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo alla prossima E con un prossimo video Bye ragazzi Ciao Ciao Ciao